Ciao nomadi, benvenuti nel salato di Gretuzza, ho spoilerato in Instagram che oggi, in questo super saluttino, avrei parlato delle nostre crisi di coppia, mie di Simone, nostre, nel senso, mie, Gretuzza, 33 anni di Genova con tre figli e di Simo, papà nomade, 34 anni, è molto più vecchio, e anche lui tre figli, caso vuole che sono gli stessi, anche se ogni tanto diciamo, ma sarà mio davvero, beh, mio, quasi non c'è dubbio, almeno che me l'hanno scambiato in culla, comunque, passiamo alle cose che vi interessano, ma prima, sigla! Mi piace un sacco questa canzone, allora io oggi avrei da rifare l'armadio della mia mezzana, però capisco anche che se mi metto qua, probabilmente le luci fanno un po' schifo, Adesso ci penso un attimino e ve lo dico, il luogo dove voi, nostri affezionatissimi amici dell'online, comunicate di più con noi ai social di Instagram, che poi è quello che utilizziamo, diciamo, di più da sempre. Se vi appoggio così, direi che vi vedo lo stesso. Molto spesso vi ho parlato delle nostre crisi di coppia, all'interno di una coppia ci sono tante crisi, se poi si hanno dei figli, ancora peggio, cioè proprio diventa l'apoteose, praticamente è il disastro della coppia l'avere dei figli, ma non tanto per i figli, quanto perché ci sono dei cambiamenti radicali, sia dalla parte della mamma, sia dalla parte del papà. Molto spesso una sensazione che proviamo noi donne quando diventiamo mamme è proprio quella di delusione nei confronti del partner, perché magari ci aspettavamo che facesse delle cose in maniera diversa, poi noi molto spesso tendiamo a tenercele per noi certe cose, quindi non le esterniamo e potrebbe darsi che appunto in quel momento lì si provi un po' di risentimento verso il partner, soprattutto perché comunque noi partoriamo con estremo dolore e, ve l'ho già detto in tanti altri video, ho parlato della maternità, delle verità sulla maternità, insomma, il dolore si sente e te lo ricordi. Poi, ovviamente, come anche qua la cicatrice, ho avuto sette punti da bambina, ora non è che proprio mi ricordo che mi cucivano, ma io quel momento lì me lo ricordo, ecco, altri sette punti non me li farei mettere volentieri, quindi la questione del partner è uguale. Voi avete partorito? Voi state sveglia la notte perché magari date il seno o comunque perché siete voi a casa e vi state occupando voi in quel momento del bambino? Apro una parentesi prima che qualcuno faccia critiche, perché qua adesso bisogna parlare, o sei femminista o sei parte del partilarcato, insomma, qua tutti pronti a sputare sentenze, no, sto parlando delle crisi di coppia. Parlo in quanto donna e magari appunto nel prossimo salottino inviteremo anche Papa Nomade, cioè Simone, nonché mio marito e padre dei miei tre figli, per fargli esprimere anche la sua opinione, perché è giusto comunque nelle cose sapere sia una parte che l'altra, per avere una versione e potersi fare un'idea a 360 gradi di quello che è una relazione, anche se ovviamente, cioè tra moglie e marito non mettere mai il dito, io vi racconto le cose, poi voi potete prenderle e giudicarci, oppure potete prendere e farne tesoro, oppure semplicemente potete prendere e farvi una barcata di affari rossi e metterle lì e dire sapete qualcosa in più di sì, ma gretuzza. Questo mio risentimento io l'ho provato veramente tanto, soprattutto durante la prima gravidanza, perché era una ragazzina, comunque ero molto giovane, anche lui era molto giovane, per quanto lui si fosse sempre spaccato la schiena nel lavoro, perché io comunque avevo un lavoro a chiamata, e qui vi ho detto tutto quanto, quindi insomma soldi ne vedevamo a zero, lui stava cercando di crearsi una carriera per poterci permettere di vivere serenamente. Oh, l'ha fatto, l'ha fatto e ha rinunciato veramente a tanto, fate conto che comunque Leonardo, io lo ribadisco, lui ha perso veramente tanto di Leonardo per darci la stabilità economica che abbiamo ancora oggi. Su questo non c'è dubbio, però appunto lo vedevo, lui lavorava comunque in un ambiente molto giovane, magari andava a prendersi l'aperitivo, mi sta venendo anche caldo, i fomenti. No, non è vero, ho solo il ciclo e sono parecchio arrabbiata. Usciva, vedeva gente, io non avevo modo, ero tanto giovane, mi ero sentita abbandonata anche dalle mie amiche, quindi non solo da lui, che è vero che andava a lavorare, ma io in quel momento lì ero in preda agli ormoni, in preda al panico. Ad oggi riconosco il fatto che, ma anche allora già lo riconoscevo, che lui era lavorato veramente tanto, ma ha perso anche tanto, tanto di Leo, tanto di me, e io poi mi ero iniziata a fare il mio giro. Comunque avevo ritrovato qualche amica che invece era rimasta, quelle poche che erano rimaste appunto, cercavo di vederle più spesso che potevo, una volta alla settimana, tanto si mi era sempre, costantemente fuori per lavoro, quindi magari io mi organizzavo, andavo di nuovo a dormire da mia mamma, lasciavo magari Leonardo, e poi andavo anch'io a dormire appunto da lei, e mi facevo un po' servire riverivre, tanto se Simo stava fuori nel weekend, questo facevo. Diciamo che questa è stata un po' una prima crisi che abbiamo avuto. Wow, una pera! Molto fomentini come carattere, quindi si litigava anche già allora abbastanza spesso, che poi non erano litigate, si finiva per ridere, insomma, come finiscono tutte le litigate del mondo. Insomma, che vuole intendere, intenda. Comunque questa però è stata una prima crisi, chiamiamola così. Un altro momento brutto è stato quando cercavamo Camilla. Alla ricerca di Camilla, che paro un film, ma non lo è, abbiamo avuto tre perdite nel mezzo, tra Leonardo e Camilla, Camilla non ne voleva sapere di arrivare, io ero caduta un po' in depressione, secondo me, magrissima, ero diventata tutta magra. Insomma, è stato veramente un brutto periodo, e sicuramente ha sofferto anche lui, lui è uno che si tiene tanto più dentro, quindi le cose te le dice, non te le dice, se può. Sicuramente quindi soffrire anche lui, ma io invece, che sono una che ha bisogno di esternare, perché proprio esplodo, i miei sentimenti proprio esplodono, io continuavo a dire, guarda, io non sto bene, perché così non è possibile, come mai non arriva, come mai non arriva, e lui continua a dire, vabbè, ma non succede niente, al massimo ne abbiamo solo uno. Che poi, generalmente, è un consiglio, è una frase che dicono, anche in generale, no, gli amici, se vai da qualcuno, ma cavolo, a me era una frase che pesava tantissimo, ma cavolo, ma come fai a dire una cosa del genere? Io voglio, vorrei, questo bambino, questa bambina, lo sto cercando, lo stiamo cercando, come fai a fregartene così tanto? Che, ripeto, non era una questione di fregarsene, era un volermi rasserenare, ma in realtà non mi rasserenava affatto, ma mi faceva incavolare parecchio. Qui c'è stato un altro momento di crisi. Poi Camilla finalmente arrivò, fu veramente, una bambina alcovalena lo è tuttora, è veramente una gioia Camilla, è una potenza, non la si può descrivere una Camilla, è un uragano di cose. Siamo ritornati un pochino ad essere in pace con noi stessi, cioè guardate che lavoro del cavolo, e se avete dei figli sapete che come bisogna farlo ogni tot e ogni pochissimo, perché? Perché a quei bambini non va più niente, crescono come i funghi, fa così, 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 e quindi devo togliere tutto e rifare tutto da casa. Uno dei dirigenti della sua azienda fece il matrimonio in Grecia e noi andavamo un mese, prendiamo un mese di ferie, perché appunto avevamo Leonardo piccolino, Simo si stava iniziando a rendere conto che aveva più bisogno, bisogno di passare più tempo con la sua famiglia. In Grecia lì si rendete conto che davvero stava perdendo tanto, aveva già perso tanto di Leonardo e non voleva assolutamente più perdersi niente di Cami. Quando siamo tornati però ci si è reso conto anche del fatto che l'ufficio senza di lui non poteva andare e che il lavoro che faceva lui aveva bisogno di lui come persona. Vabbè, poi scoppiò il lockdown, tutti preoccupati, perché lo eravamo tutti quanti, voi non so se ci seguivate già da allora, ma noi avevamo fatto la proposta della casa dove siamo adesso e l'accettarono solo verbalmente la settimana prima di fare l'atto della casa, quindi rimanemmo senza casa, senza la certezza che questa fosse casa nostra, tra l'altro questo era un rudire, quindi vabbè lasciamo perdere. Dall'altra casa avevamo sei mesi per andarcene, eravamo chiusi nel lockdown, non potevamo fare niente, quindi avevamo scatolini in casa. Il pensiero è che questa casa non sarebbe stata nostra, che quando uscivamo avremmo avuto solamente, boh, chissà quanto tempo per poterla liberare e fare il lavoro di qua, e quindi vabbè, in acido totale anche il lockdown non fu un grandissimo periodo, mettiamola così. Usciti di lì però Simo ha preso una decisione molto importante che ad oggi ne sono super felice, che è quella di chiudere l'ufficio per appunto passare più tempo con noi, con la famiglia, dedicare più tempo anche alle sue passioni, alle cose, perché, ripeto, come ho detto all'inizio, aveva rinunciato veramente tanto di se stesso e questa fu una scelta che forse non ho voluto mettere becco e lui per questo mi rimprovera, perché comunque mi dice che mi ha sempre un po' rinfacciato il fatto che l'ho lasciato sempre da solo, ma io non volevo essere la causa delle sue decisioni, perché un domani se se ne fosse pentito sarei stata io la causa di ah, tu mi hai fatto chiudere l'ufficio, ma hai detto di chiuderlo. Quindi per non ritrovarmi in quella situazione, forse anche un po' per tutelarmi, quindi sì, forse sono stata anche leggermente egoista nei suoi confronti, non ho messo tanto becco in questa cosa, ma sono veramente felice di questo e spero che lui apprezzi anche questa cosa qua. Abbiamo iniziato comunque a lavorare, lui ha iniziato ad avere l'azienda dove lavora adesso, che è la sua azienda di social media manager, insomma, stiamo tanto a casa, tanto a stretto contatto, tante volte lavoriamo e collaboriamo insieme e è stato tosto, è stato tosto, perché comunque poi lui si è dedicato completamente ai lavori di casa, in quel periodo proprio post lockdown, proprio per permetterci di entrare il più velocemente possibile in questa casa, perché vivevamo un po' prima da sua nonna, poi mia nonna si ruppe una gamba, e andiamo a vivere da lei, e quindi insomma eravamo su un materassino di Decathlon a dormire, di giorno eravamo qua a lavorare, portavamo Leonardo a scuola, Camilla veniva con me, insomma è stato un periodo abbastanza tosto, ci vedevamo veramente con i binocoli, quando ci vedevamo eravamo stanchi morti, e diciamo che anche lì non è stato un bel periodo, è stato veramente intenso, e lo ricorderemo per tanto, però quell'unica volta che andammo a letto insieme arrivò Carola, cioè ho cercato talmente tanto Camilla, e poi Carola è arrivata così a pie pari, tra l'altro quando stavamo per iniziare ad entrare in questa casetta nuova, che i lavori erano quasi finiti. Carola era il figlio che lui ha sempre desiderato, perché lui ne aveva la tre, io ero un po' incerta, la amo follemente, non tornerei mai indietro, ma io avevo il terrore di non avere abbastanza amore, di non avere abbastanza attenzione per tutti quanti, e tutti i torti comunque non ce l'avevo, perché ora rinfaccia lui il fatto che gli do poche attenzioni, ma è perché sono sempre sopraffatta dalle cose, e il fatto che lui non lo capisca a me fa soffrire tantissimo, che poi non è che non lo capisce, ma vorrebbe di più, e io questo di più ora non riesco neanche a darglielo, mi sento in colpa. Questo è un altro motivo della nostra crisi, di un'altra nostra crisi, che poi è la crisi che arriva ad oggi, lui vorrebbe avere più tempo per poter stare insieme, noi questo tempo non l'abbiamo, perché tra gli impegni dei bambini e le varie cose di lavoro, non lo abbiamo, quindi molto spesso mi sento in colpa nei suoi confronti, perché non riesco a trovarlo. Quando lo trovo siamo arrabbiati da talmente tanto tempo, che riusciamo a godercelo non appieno, non con la serenità che vorrei, e niente, questo è quanto, comunque sappiate che capitano in tutte le famiglie, se non in tutte, nella nostra capitano, perché molto spesso mi sento sbagliata quando guardo magari video o seguo pagine, è una macchinina, vai metti tutte le altre. Mi sento sbagliata, dico cavolo ma come fanno a guardarsi dopo i figli, a guardarsi ancora con quell'amore, oppure semplicemente non mostrano il lato brutto della coppia, che poi è quello dove si litiga, è quello dove ci si fanno degli errori, dove ci si scanna, dove ci si scopre diversi, e poi tanti arrivano anche al divorzio. Ecco, di tutto questo c'è veramente un vuoto, è come un grosso buco nero sui social, una macchina, è come un grosso buco nero sui social e fa male, fa male alle persone normali come me che vivono i social, perché io comunque, oltre a essere un creator, quindi a fare video, io li guardo, guardo perché è normale, il social è di oggi, è una cosa che fa parte della vita normale, un tempo c'era il ferro da stiro, oggi c'è il social, quindi è normalità, e quindi mi sento sbagliata. Invece con questo mio piccolo racconto, io spero di aver trovato anche solo una persona, che si è trovata nella mia stessa situazione, e che possa dire, allora succede anche nell'altro copio, si litiga, si litiga tantissimo, si litiga per più volte, durante una relazione che è duratura, si fanno più litigate, ci sono più crisi, ci sono tanti errori, tante cose, tante cose che vengono perdonate, tante cose che rimangono sul gruppone, ma con la volontà di voler andare avanti, si può fare qualsiasi cosa. Nel prossimo salottino, ho deciso che vorrei come ospite Simone, gliel'ho già accennato, mi ha detto di sì, speriamo di trovare il tempo, spero che lui trovi il tempo, perché voglio appunto che lui racconti la sua versione, perché giusto così, io e lui ci siamo già detto le cose, tenete conto che tutto ciò che dico a voi, noi ce lo siamo già detti e stradetti, quindi non vi uso come psicologi, ma semplicemente mi va di raccontare la verità anche in questo, perché avevo deciso ai tempi, quando sono sbarcata sui social, che io sarei stata sincera, e cerco di esserlo il più possibile, laddove non posso essere sincera, piuttosto non dico niente. Bene, ho quasi finito tra l'altro di mettere a posto l'armadio di Cami, la parte sotto, perché la parte sopra mi sento male, ci vediamo al prossimo salottino, vi aspetto domenica prossima.